Dopo la pausa forzata riparte anche il girone C di Serie D che in questo caso vede affrontarsi Cattolica e Campo d'Arsego. La squadra di padrone di casa penultima in classifica cerca tre punti fondamentali per la salvezza mentre i Veneti che sono in piena lotta playoff arrivano dal pareggio per 1-1 nell'ultimo turno contro l'Arzignano. La direzione della gara odierna è affirata al signor Eremitaggio di Pavia. Siamo ora con le immagini al tredicesimo partono forti gli ospiti in questo caso il tiro di Allucci da fuori aria impenserisce Scotti ma ancora l'azione sempre dei Veneti la palla giunge tra i piedi di Cocola il tiro ancora una volta si deve superare il portiere di casa venticettesimo altra punizione in questo caso il colpo di testa è di Buratto si era liberato bene ma non inquadra lo specchio trentanovesimo ancora una punizione e qui il sinistro di Guitto si stampa sulla traversa quarantatresimo sussulto del Cattolica con questa azione tra Semprini e Padulano il tiro del 18 è però fuori misura ci provano gli ospiti siamo al quarantatresimo passano in avanti così il colpo di testa è di Solinas il secondo gol per lui maglia bianco rossa l'assist al bacio è di Cocola siamo ora al secondo tempo al secondo minuto partono forti i padroni di casa con questo colpo di testa di De Vito che si stampa sul legno dieci minuti dopo però c'è il raddoppio del campo d'Arsego in questo caso è a Diego dalla destra col Mancini in venta e qui può solo che concludere Colombi decimo gol in campionato per il numero 9 della formazione Veneta ventunesimo però a corsa le distanze il Cattolica questo traversone dalla sinistra la palla arriva tra i piedi di Morri che batte Fortin chiama i suoi per una possibile remontada che non arriva perché al ventisettesimo gli ospiti si riportano sul più due con questa splendida punizione dal limite di Allucci seconda marcatura stagionale per lui trentatresimo però il Cattolica prova un'altra reazione con questa azione dalla sinistra e poi il pallone arriva tra i piedi di Padulano la conclusione è respinta ultima chance al quarantanovesimo qui l'1-2 tra Rabbeni e Leonetti ma il numero 10 spreca clamorosamente triplice fischio dell'arbitro la squadra di casa non riesce a smuovere una classifica che ora preoccupa seriamente ripetiamo il penultimo posto in classifica allo stadio Calvi finisce 1-3 tra Cattolica e Campo d'Arsego